E' il parco pugliese con maggiore interfaccia costiera, estendendosi per circa 60 chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della Puglia, con una delle più alte concentrazioni di grotte marine, habitat di rifugio per molte specie zoologiche che si sono estinte altrove. Ce n'è abbastanza perché il parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca, Bosco di Tricase, diventi anche area marina protetta in virtù del progetto Parks Without Borders, finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Grecia-Italia 2007-2013, per un importo complessivo di 1.770.000 euro, con l'obiettivo principale di garantirne la piena accessibilità. Sarà una fonte insostituibile di attrazione per un turismo, ripeto, intelligente ed accorto. La barriera di coralligeno che ha poche miglia dalla costa di Tricase è un'emergenza di enorme valore che è bene valorizzare, controllare, studiare e custodire. Tra gli organismi di grotta, la Trifocalis salentina è una specie rarissima presente in pochissime altre parti del mondo, come lo Spellonisis Bottazzi, tutte specie di crostacei marini ciechi che vivono al buio, preziose presenze della nostra costa. Ma la cosa più importante è che anche la gestione delle risorse ittiche può cambiare completamente in un'area che diventa marina protetta con la razionalizzazione della pesca e non solo. Pensiamo per esempio alla elettrificazione dei motori delle imbarcazioni che fruiscono la costa e che oggi invece sono tutte fatte da barche a motore e quindi con un peso, un impatto ancora troppo elevato per un'area così bella e importante.